Il ruolo dell'arma dei carabinieri non è soltanto quello di fare arresti e dare multe, ma anche di svolgere tutti quei servizi che possono essere racchiusi in una sola affermazione, essere a disposizione dei cittadini. La solidarietà e l'aiuto a chi è in stato di necessità rientrano in questa attività e l'emergenza sanitaria di queste settimane è fonte di numerose occasioni per prestare soccorso, come il caso di Pasquetta, in cui una gazzella si è recata in farmacia per prelevare e consegnare a domicilio i medicinali per una mamma che non poteva muoversi di casa, un gesto che ha suscitato la riconoscenza del figlio della donna nei confronti dei carabinieri. Un'altra occasione si è presentata ieri, quando la centrale operativa della caserma di via Beverora ha ricevuto la telefonata con cui un cittadino straniero segnalava una connazionale in grave stato di indigenza al punto di essere sprovvista di denaro e di viveri. Il marito della donna, disoccupato, si era rivolto a un amico che però non era in grado di aiutarli ed ha così pensato di fare appello ai carabinieri. A quel punto è scattata la catena di solidarietà. Una pattuglia della stazione Piacenza Principale ha contattato la Caritas Diocesana e la parrocchia della Sacra Famiglia, che hanno subito messo a disposizione tre pacchi di generi alimentari. I carabinieri hanno quindi portato a casa della donna gli alimenti, aggiungendo due uova di Pasqua per i figli in tenera età. La situazione è stata anche segnalata alla Croce Rossa.